Teatro Eliseo Roma, per uomini in culture, la cultura non si sfratta per interessi privati. Per uomini in culture siamo al Teatro Eliseo, abbiamo parlato ora con un addetto, qui un lavoratore del Teatro Eliseo e praticamente il Teatro Eliseo è sottosfratto, cioè rischia la chiusura, rischiano che i dipendenti siano praticamente mandati a casa perché il proprietario delle mura, per morosità della proprietà che gestisce l'Eliseo, ha in propria continuazione di legamento. Questo è il sintomo, l'esempio proprio della cultura non si sfratta, questo è un sintomo più evidente dello stato culturale del nostro paese e come dice Licia Maglietta, stiamo affondando in questo paese, le prime cose che sono affondate sono l'arbre e la cultura. Il Teatro Eliseo quindi è a rischio chiusura. Roma, 17 luglio, domina, ottobre.